Vieni, vieni, tutto tranquillo. Tutto tranquillo, eh? Ma di che ti preoccupi? Di tutto. Ehi! Non l'ho affatto apposta. E invece l'ho fatto apposta. Io pure. Oddio, adesso! Sì! 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 Ancora no. 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 Ve l'avevo detto che non ci volevo venire qui. Va bene adesso? Eh, adesso sì. Ehi. Senti, per quella di un buggy facciamo domani a mezzogiorno, giusto? Giusto. Non una di un buggy qualsiasi, deve essere rossa con cappottina gialla. Giusto. 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 Mi blazè. Giusto. Giusto. Grazie a tutti